Migliora leggermente il livello di alfabetismo scientifico degli italiani, ma quasi 4 su 10, bene il 40% quindi, risultano tecnoesclusi, ovvero sono cittadini completamente tagliati fuori dalle tecnologie digitali. Di questi, 37 su 100 non hanno mai usato internet né un computer. Lo scenario, basato su rilevazioni Eurostat del 2012, emerge dalla decima edizione speciale dell'annuario Scienza, Tecnologie e Società 2014, curato da Massimiliano Bucchi dell'Università di Trento e Barbara Saracino dell'Università di Firenze, edizione Mulino. Il nostro paese è molto indietro rispetto ai partner UE. Facendo i conti, la media europea dei tecnoesclusi è di 2 cittadini su 10. Il 20% di cittadini europei, cioè, non usa il computer e il 22% non naviga a rete. Molto avanti sono invece la Svezia, che ha solo il 3% di tecnoesclusi e la Dalimarca, che registra appena un 4%. Questi dati, sottolinea Barbara Saracino, fanno emergere un'Italia che solo in una fascia specifica della popolazione, cioè i giovani under 40, accede alle nuove tecnologie, mentre registra un gap tecnologico ancora forte nelle fasce di età fra i 45 e i 60 anni. Un gap, continua Saracino, che vede le donne maggiormente tecnoescluse degli uomini. Le donne usano meno le nuove tecnologie, sia per la differente condizione occupazionale, cioè hanno un accesso inferiore al mondo del lavoro, dove tipicamente si usano Internet e PC, sia per il tipo di attività svolta, spesso lontana dalle tecnologie digitali.